L'Assis Salernitana Reti ed Impianti SPA ha divulgato un avviso agli utenti per la mancata fornitura d'acqua potabile. A causa della mancata fornitura d'acqua, si legge nel comunicato, in distribuzione nei serbatoi comunali di Agropoli, dovuta ad un guasto sulla rete di adduzione, il giorno 25 maggio 2021, dalle ore 6 alle ore 24, salvo imprevisti, il servizio di fornitura idrica agli utenti sarà sospeso. Gli utenti sono invitati a rifornirsi delle quantità d'acqua strettamente necessarie e a non eccedere con le scorte. I lavori saranno effettuati alla condotta duttrice del basso sele. Inoltre il comune di Agropoli ha fatto sapere che l'erogazione idrica non sarà sospesa per le zone fonti alto e campanina. L'Assis da parte sua approfonderà il massimo impegno affinché gli inevitabili disagi siano ridotti al minimo. Per eventuali informazioni e chiarimenti, in merito, telefonare negli orari d'ufficio al numero verde 800 0201 80.